momento catardico eh? adesso devo fare un'operazione facciamo una bella operazione chi fa il chirurgo? leviamo la codica del prosciutto fammi fare a me ma che aspetta tu che non fa niente fammi fare a me va via tu stai zitta che il prosciutto è l'amore mio perciò non perciò ma come le aveva? stai di qui eh ma che se c'è no 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 ma che perché le tagli a metà ma che tagli ah non c'è molta niente ti faremo no 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 e la sta ferma fermati qui fermati ma che tagli all'arroverso? ma non c'è quanto? mannaggia il crocistratto stronzo ma che è? fermati che è fermo ma tu sei uno stronzo atomico uno stronzo nucleare c'è la bandiera dal cuore si e la sta ferma che non si monta niente tagli anche di qui così no no fermati taglielo così fermati ma tagli di qui che meno c'è il grasso vesta tagli di qui la vostra bordello fermati ma che cazzo c'è? ma che è? ma la sta fermo guarda guarda le scalette qui ci si taglia che scalette è? ma come guardate lì che è lavoro nooo non è buona scaletta ma guarda che casino ma che scalette? ma che che è? la sta ferma che non c'è buono non c'è tagliato allora taglielo tu e chi è che taglio? oh